Nelle mani di Dio le cose possono cambiare, gli uomini possono cambiare. Nella casa di reclusione di Chiavari il Vescovo spiega che il carcere può essere la strada per rispondere con l'amore all'amore che si manifesta nel perdono di Dio. Non è vero, dice, che una volta commessa una pena non ci sia più possibilità di ripresa. Non induriamo il cuore dicendo ma l'unica soluzione è tenerli rinchiusi. Non è vero, non è vero, hanno bisogno di fiducia. Tutti noi abbiamo bisogno di fiducia e quindi anche noi come società diamo fiducia. Diamo fiducia al carcere nella sua capacità di redenzione e diamo fiducia ai carcerati nella loro volontà di rispondere. Il Vescovo invita quindi i carcerati ad invocare l'aiuto di Dio per morire al peccato, alle colpe commesse con la decisione di cambiare la propria vita. Qualche giorno fa in un incontro personale tra il Vescovo e i detenuti alcuni di loro hanno espresso un desiderio di cambiamento. Ci sono diversi giovani, diverse persone che sono detenute che mi hanno chiesto di fare un percorso di introduzione alla fede cristiana. A volte può sembrare, come dire, un atteggiamento strumentale ma nel passare del tempo ti rendi conto quando lo è e quando non lo è. Ci sono tante persone che hanno veramente un desiderio di veramente dare una svolta significativa alla propria vita, a partire da sé. Il personale della Casa di Reclusione, con impegno e sacrifici già da tempo e con vari progetti, è attenta alla vita dei suoi detenuti. Cerchiamo sempre di affrontare le situazioni senza essere né burocratici ma nemmeno indifferenti perché sarebbe facile dire ho fatto il mio, ho redatto le mie carte, ho fatto le mie operazioni di sicurezza. Invece ci sono tanti aspetti umani che dobbiamo prendere in considerazione e non possiamo esserne indifferenti. Al termine della Messa sono stati consegnati due preghiere da custodire nella propria cella una piccola colomba in legno, segno di pace e il tau, simbolo francescano, e seguito il pranzo al quale ha partecipato anche il Vescovo che in più occasioni ha sottolineato la gioia personale di tutta la Chiesa di vivere un momento insieme ai carcerati.